A autonomia la partita va avanti e il Veneto ha le sue carte da giocare, le sue buone ragioni, a cominciare dai conti virtuosi e dall'efficienza dei servizi pubblici. Qui da noi il pubblico funziona, per questo chiediamo l'autonomia, visto considerato che l'efficienza nel pubblico è anche sinonimo di un'assunzione di responsabilità che siamo in grado di esercitare. Del resto non ci sarebbe un Veneto che sarebbe disposto a cedere la sanità gestita oggi da ragione a Roma. Anche di fronte a calamità naturali come la tempesta vaia, sul piano degli indennizi l'autonomia non rappresenterebbe un problema, anzi... Questo resterebbe nel Fondo Nazionale della Protezione Civile, nel senso che queste sono risorse ad ombrello nei territori. Dopodiché si stabilirà anche quale forma di autonomia, perché potrebbe essere anche che le regioni portino a casa anche questa competenza, a quel punto provvederemo noi direttamente. Ma con 150 miliardi di pilli del Veneto non avrebbe problemi ad affrontare questi temi. Luca Zaia aspetta la prima mossa del Governo e non si fa sedurre dal decreto legge collegato alla finanziaria relativo all'autonomia differenziata. È la volontà di dire da parte di chi ci governa che l'autonomia la considerano comunque una priorità, nel senso che non se la sono dimenticata. Ovvio che questa è la cornice di un quadro che deve essere ancora definito e soprattutto ci aspettiamo dal Governo che ci presenti una bozza d'intesa e capire qual è l'idea di autonomia per il Governo. È un buon segnale comunque. Ma guardi, io di buoni segnali ne ho visti tanti in questi anni. Direi che noi siamo chiamati a guardare i fatti. Il fatto è avere una bozza d'intesa e cominciare a discutere per la firma di questa intesa.